Una folla commossa ha partecipato nella chiesa di San Viaggio di Callalta al funerale di Tiziano Sozza, mancato la scorsa domenica a causa di un malore. Aveva 64 anni ed era molto conosciuto nella comunità di Breda e di Carbonera, dove gestiva una storica panetteria in Viale Brigata Marche. Si è donato senza riserve per poter migliorare e donare nuova vita ad altri. Forse una coincidenza, aveva subito un intervento chirurgico pochi giorni prima, poi il malore che ha lasciato tutti attoniti. Oltre al lavoro da fornaio, Tiziano era anche molto conosciuto per il compito che svolgeva come vicepresidente della società di calcio Ardita Breda. Più di un centinaio i ragazzi del calcio, dai pulcini alla prima squadra, che sentiranno la sua mancanza, le sue battute di spirito e l'incoraggiamento. Ad ufficiare la Santa Messa, don David Berton. Amava lo stare insieme e il fare qualcosa insieme agli altri per rendere tutto più bello, più utile. Tiziano, sempre gentile e disponibile verso i clienti, era anche noto per la sua generosità. Da oltre dieci anni donava il suo pane per il Banco Solidale nella sede della provincia all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Istancabile la sua presenza anche nell'organizzazione delle feste e degli eventi del paese. Lascia la moglie Daniela, i due figli Diego ed Enrico, ed un nipotino a cui teneva tanto.